Il Forum dei Giovani di Capaccio Pestum si prepara per il Natale ed è pronto con varie iniziative solidali. Infatti l'amministrazione comunale ha deliberato in particolare due iniziative, ovvero la seconda edizione del Natale in Solidarietà ed anche la realizzazione di un albero di Natale totalmente innovativo. Il Natale in Solidarietà, già realizzato con successo lo scorso anno, è un evento che consiste nella raccolta di giocattoli usati su tutto il territorio comunale, da donare ai bambini più bisognosi. L'evento sarà realizzato col padroginio del Comune Capaccese e con il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di primo grado, delle associazioni di volontariato e delle parrocchie del territorio. L'obiettivo dell'evento è quello di smuovere le coscienze e stimolare lo spirito solidale, soprattutto nei più giovani. Invece il progetto EcoAlbero verrà realizzato in Piazza Santini a Capaccio Scalo, dove un albero composto da bottiglie di plastica riciclate sarà il protagonista del Natale. Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione al riciclo e riuso dei materiali inquinanti come la plastica. La raccolta delle bottiglie è aperta a tutti i cittadini di Capaccio Pestum e l'inaugurazione avverrà il 7 dicembre in concomitanza con l'accensione delle luminarie in tutto il comune.